a terra 1 però sono a 300 metri la rite le hanno aumentato il cooldown della tattica dai ma come da 25 secondi a 35 ma sei serio già era troppo appunto poi hanno pure fatto che se adesso se fai portale l1 insieme non vai più veloce che cazzata vabbè assurdo già mi chiedete comunque era un personaggio troppo più per girarlo buttarlo ancora più giù luca l'airlum mi mancano 30 pacchi ho detto però contando dal livello 300 me ne mancano 30 cioè se arrivo al livello 300 apro tutti i pacchi gratis fino al 300 poi me ne mancano 30 da shoppare in quel senso salito qua sopra 1 aveva armi questo si si vabbè flatline e triple take se vuoi ti lascio il grabber no 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 dai le star qui c'è la rite che ha shot era qua sopra chiaro mai che hai droppato dall'altro è il star ok madonna per quanto a me ne fai che un cazzo te lo devo colpire qua no vabbè tanto sto fatto infatti dai compadre alzati forza 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 oh si si vai via e io ho 15 colpi di flatline però oh top vabbè vado di eva 8 non credo si rialzeranno del lavoro i nemici sono vai io gli stavo sparando con radio sin oscure bello quanto fa è cd madonna ma che io faccio pena voglio usare voglio fare sfide no il g7 pure in questa modalità ma questo qua ma hai usato quasi tutti i colpi di crap ah ma li avevo usati già l'altro esatto cazzo sei colpi sono rimasti mi colpo eh mastiff bello era da solo ma mia amigo però ho sentito gente curarsi e quello era l'ultimo amico ci vedo di nuovo sto ricaricando a ricarico infatti ha pushato uno ma tutti sto cazzo di mastiff hanno trovato ah ah così al volo esploso al volo mamma bene qua c'è anche c'è anche il mastiff dell'altro doppio mastiff dai beh io prima l'ho fatto ci ho fatto tipo di 10 kg allo start poi sono morto male però se no uso il graver no mi fa troppo schifo non so il g7 dai pure questa modalità già già lo usa eh no no vabbè speravo fosse 145 tu mirage ok bella ariel sto ricaricando me do 116 al mirage dai si è buggata la cazzo di un pazzo un pazzo manca il blog qua sotto poveretto questi qua erano le batteri ce ne sono infinite io ne ho 4 si si ho 30 cello e scudo ho 4 batterie ecco c'è un octane che sta arrivando nooo nooo oh yes c'è anche il crabber 145 all'octane è raviola lo push meno i freaking chiesto sta andando ok ho buttato giù ok ecco la lifeline mi cagherò in mano luttando questa da qua dentro la casa che schifo no devo ammazzare quello che mi sta sul cazzo non c'ho lo scudo e vado si 122 è blu bat ma che arma ha quel tumoretto lì eh g7 però forse ha un altro team quello no non l'avevo quasi preso l'ho preso 145 ma tutti e due blu sono il cazzo di arma c'ho il flat tutte e due sopra la casa mancava uno yes sopra l'altro tetto madonna io sto odiando la roba delle cure ci sto tipo tre ore bella ci servono cure così no no sto pieno si si mi hanno pushato ma dov'è? qua abbiamo compagnia 119 a 1 ricarico 119 36 1 è sulla porta qua 72 manca la lifeline è sotto è un mirage non è una lifeline good good era viola ci ho provato ci ho provato questa qua è tipo è qua sopra la casa a terra 1 però sono a 300 metri è qua via qua via qua via qua butto la zippie ma cazzo risale guarda che è tanto lontano non so se yes infatti andiamo là sopra tanto l'hanno sicuro versato io ho finito i colpi di crabber non è bello no erano su questa casa qua mi pare no su quella dietro forse si si visto uno è dentro 126 39 all'octe ma stava ricaricando è qua è qua è poca vita stava ricaricando pure lui è qua sulla scale è qua che ho visto eh si si c'era un crabber non è piaciuto per niente sto ricaricando gli scodi perché ho il tasto rotto Pietro ci sono qui io è la domanda pre vita infatti scazzai da due giorni che mi curo facendo le cure dallo zaino e me l'avranno chiesto 80 volte ma forse non è più sopra no ne sono due ok il gb ha 10 di vita non è vero aveva 20 ma erano due team diversi vabbè uso questo ma siamo seri boh penso manchino uno e uno vabbè ah no uno solo allora qua sopra l'ho visto eccolo no ah no allora sono due ho visto una radio 152 su lifeline non ci credo sono tutte e due che sono la vita no la lifeline si è curata no rianimati rianimati e anche lo zaino oro ce la fai manca la lifeline che però è full si è fatta di nuovo no no l'ho riputtato a terra quello restato manca la lifeline che è full vita ma è uno a posto dai dai ma si ne va bene che odio il must if andata bene si si che schifo il must if comunque è strano ma è strano quando decidi di romper il cazzo qua la lifeline penso di averle fatto 19 19 30 e con l'ultimo 113 diciamo cosa così 3.500 danni comunque in questa modalità 4.000 si si no 4.000 li fai cioè volendo li fai subito 5.000